ovviamente lo ringraziarono con molti inchini e sventolamenti di cappuccio e con molti al vostro servizio o signore delle vaste sale di legno ma il loro morale era molto meno alto dopo le sue gravi parole ed essi sentivano tutti che l'impresa era di gran lunga più pericolosa di quanto avessero pensato e anche ammesso che avessero superato i pericoli lungo la strada ci sarebbe sempre stato il drago ad aspettarli alla fine del viaggio per tutta la mattina furono indaffarati nei preparativi poco dopo mezzogiorno mangiarono per l'ultima volta con beorn e dopo pranzo montarono sulle cavalcature che gli aveva prestato e salutandolo con molti addii uscirono dal cancello a buona andatura appena lasciate le alte siepi a est puntarono a nord per poi piegare verso nord ovest seguendo i suoi consigli non si diressero più verso la strada principale che portava alla foresta passando a sud del suo territorio se avessero passato il valico prescelto in origine il sentiero li avrebbe condotti ad un rivolo che scendeva dalle montagne per affluire nel grande fiume diverse miglia a sud della carroc in quel punto c'era un guado profondo che avrebbero potuto passare se avessero ancora avuto i loro poni per poi trovare sull'altra riva una pista che portava al limitar del bosco e all'inizio della vecchia strada della foresta ma beorn li aveva avvertiti che ora quella via veniva spesso usata dagli orchi mentre la strada come aveva sentito dire era piena di erbacce e caduta in disuso all'estremità orientale e portava a paludi impraticabili dove i sentieri si erano persi da tempo lo sbocco orientale comunque era sempre stato molto più a sud rispetto alla montagna solitaria cosicché quando fossero arrivati dall'altra parte della foresta avrebbero dovuto fare un lungo e difficile cammino verso nord a nord della carroc il margine di bosco tetro si avvicinava alle sponde del grande fiume e benché da quella parte le montagne non fossero molto distanti beorn aveva consigliato di optare per quel percorso infatti a un certo punto raggiungibile a cavallo in pochi giorni si apriva un sentiero poco conosciuto che attraverso bosco tetro portava quasi direttamente ai piedi della montagna solitaria gli orchi aveva detto beorn non oseranno né attraversare il grande fiume per un centinaio di miglia a nord della carroc né avvicinarsi a casa mia è ben protetta di notte ma vi conviene cavalcare in fretta perché se decideranno di far presto la loro incursione attraverseranno il fiume a sud e batteranno tutto il margine della foresta così da tagliarvi fuori e i mannari corrono più veloci dei poni in ogni caso sarete più al sicuro andando a nord anche se vi sembrerà di tornare più vicini alla loro roccaforte questo infatti è ciò che meno si aspettano e saranno loro a dover cavalcare più a lungo via adesso più in fretta che potete questa è la ragione per cui cavalcarono in silenzio galoppando dovunque il terreno fosse erboso e soffice con le montagne scure alla loro sinistra e in lontananza la linea sempre più vicina del fiume quei suoi alberi quando erano partiti il sole si era appena volta occidente e fino a sera induggiò dorato sulla campagna intorno a loro preferivano non pensare agli orchi che li inseguivano e quando ebbero messo molte miglia tra sé la casa di beorn cominciarono a parlare e a cantare di nuovo e a dimenticare lo scuro sentiero della foresta davanti a loro ma a sera quando scese il crepuscolo e le vette delle montagne si stagliavano acupe e minacciose nella luce del tramonto si accamparono e misero delle sentinelle e la maggior parte di loro dormì male facendo sogni in cui risuonavano gli ululati dei lupi infamelici e le grida degli orchi al mattino seguente l'alba fu di nuovo vivida e bella intorno a loro si era alzata una nebbiolina quasi autunnale e l'aria era gelida presto però a oriente si levò un rosso sole e le nebbie svanirono mentre le ombre erano ancora lunghe essi ripresero il cammino cavalcarono così per altri due giorni e per tutto il tempo non videro nulla tranne erba fiori uccelli alberi sparsi qua e là e di tanto in tanto mandrie di cervi rossicci che brucavano a mezzogiorno sedevano all'ombra qualche volta bilbo vedeva le corna dei maschi spuntare dall'erba alta e sulle prime pensava che fossero rami secchi la terza sera erano così ansiosi di far presto seguendo il consiglio di beorn di raggiungere il sentiero della foresta il quarto giorno di buon ora che continuarono a cavalcare anche dopo il crepuscolo e nella notte sotto la luna mentre la luce svaniva a bilbo parve di vedere lontananza a volte sulla destra a volte sulla sinistra la sagoma scura di un grosso orso che avanzava furtivamente nella stessa direzione ma appena osava accennarne a gandalf lo stregone diceva solamente non ci badare l'indomani partirono prima dell'alba anche se la loro notte era stata breve appena ci fu luce cominciarono a vedere la foresta avvicinarsi come per venir loro incontro o per fronteggiarli come un muro nero e minaccioso il terreno cominciò a salire e all'hobbit parve che su di loro cominciasse a calare il silenzio gli uccelli cantavano meno e non si vedevano più erano spariti perfino i conigli raggiunte le prime propaggini di bosco tetro si riposarono quasi sotto i grossi rami sporgenti degli alberi più esterni i tronchi erano grossi e nodosi i rami contorti le foglie scure e lunghe l'edra gli cresceva attorno e correva lungo il terreno ebbene questo è bosco tetro disse gandalf la foresta più grande del mondo settentrionale spero che il suo aspetto vi piaccia ora dovete rimandare indietro questi eccellenti poni che avete preso in prestito i nani cominciarono a brontolare che non volevano farlo ma lo stregone disse che sarebbe stato da sciocchi beorn non è così lontano come sembrate pensare e vi conviene comunque tener fede alla vostra promessa perché può essere un nemico spietato gli occhi del signor baggins sono più acuti dei vostri se non avete visto ogni notte dopo che faceva buio un grosso orso avanzare con noi o sedere in lontananza al chiaro di luna sorvegliando il nostro accampamento e non solo per proteggervi e guidarvi anche per tener d'occhio i poni beorn può esservi amico ma ama i suoi animali come figli non potete immaginare quanta gentilezza abbia mostrato lasciando che dei nani li montassero per andare così lontano e così in fretta